Arrigo, Arrigo, Arrigo Lenore vuole scrivere il vostro nome, così bello, tante volte pronunciato, chiamato, lo voglio fare anche ora, Arrigo. Un assaggio dello spettacolo dedicato all'analisi della figura di Eleonora Duse e al carteggio fra lei e Arrigo Boito, a cura dell'attrice Anna Zago. Questa la chicca che ha caratterizzato la presentazione della seconda stagione teatrale al piccolo teatro Piero Bondi Paiane a Ponte nelle Alpi, a cura del Circolo Cultura e Stampa Bellunese con la collaborazione dell'amministrazione comunale. Un modo per condurre i presenti alla scoperta del cartellone al via da sabato 26 ottobre in un fil rouge fra locale e nazionale. È una stagione di sei rappresentazioni molto intriganti, due rappresentazioni vanno a celebrare la Duse a Rio Boito, per cui sarà il grande teatro ospitato dal piccolo teatro di Paiane. Ebbene sì, perché Ponte Alpi, Polpet, che ha dato i Natali a Silvestro Boito, Silvestro è il papà, di cui due grandi artisti che hanno dato gloria alla letteratura, all'architettura, alla musica, Camillo e Arrigo, verranno celebrati nel paese natale del papà. Ecco, quindi è una grande occasione perché insieme alla Fondazione Giorgio Cini, che conserva il patrimonio del carteggio a Rio Boito e Leonora Duse, porteremo questo carteggio, una sintesi di questo carteggio al Museo Fulcis di Belluno, però due opere verranno rappresentate qui e anche un film su Arrigo Boito verrà presentato dalla Fondazione Cini qui in questa sala di Paiane. Va riegato il programma della stagione in scena fino al 5 aprile. Per noi la cultura è un momento importantissimo, come diciamo sempre è un momento che ci porta anche a degli step importanti nella vita della comunità di Ponte nelle Alpi. Il nostro teatro è un piccolo gioiellino, anche vista la quantità ridotta di sedute e questo è sicuramente un valore in più anche per sentire un'accoglienza diversa, sicuramente più raccolta rispetto a quelle che magari altre in realtà possono offrire.